Massimo sostegno al segretario nazionale della Lega e ministro Matteo Salvini per la vicenda di Open Arms, per la quale i giudici hanno chiesto sei anni di carcere. A livello nazionale si è riunito il Consiglio federale della Lega, ma c'è stata una riunione ieri anche a livello regionale per ribadire il sostegno incondizionato al leader del Carroccio. Salvini peraltro giovedì dovrebbe fare tappa a Pescara. Si è riunita ieri sera la segretaria regionale della Lega, tra i vari punti all'ordine del giorno abbiamo affrontato il tema del processo Open Arms, che ha visto coinvolto il vice premier, allora ministro dell'interno Matteo Salvini, che nell'esercizio delle sue funzioni di ministro ha difeso i confini dell'Italia. La segretaria regionale ha espresso piena solidarietà, vicinanza e sostegno al segretario Matteo Salvini e verranno organizzati nelle prossime settimane dei gazebo con delle raccolte firme a sostegno della sua persona e delle funzioni dell'attività esercitata. In Casa Lega insomma le acque sono abbastanza agitate. A livello locale c'è pure la questione del deficit sanitario delle Asla abruzzesi, che sfiorerebbe i 200 milioni di euro, fatto che ha portato il numero uno della sanità abruzzese Gladio Damario alle dimissioni, sia dal Dipartimento Salute che dal Mazzini di Teramo. Il 24 settembre sarà un giorno cruciale perché le due commissioni Sanità e Bilancio, presidute da Gatti e Dincecco, proprio della Lega, saranno chiamate a dare il parere vincolante ai piani di rientro delle aziende sanitarie.